Ben ritrovati, nuovo appuntamento con il tv giornale di Telestense, apriamo subito questa edizione con gli ultimi aggiornamenti legati ai casi di coronavirus, numeri dei nuovi positivi che nel ferrarese rimangono stabili nonostante nelle fine settimana si eseguano meno tamponi, 4 nuovi casi di 2,2 asintomatici in città e in provincia, nella regione dell'Emilia Romagna su oltre 9.200 tamponi, circa 1.000 meno rispetto al giorno precedente, sono 109 i nuovi positivi mentre il giorno precedente erano 149, metà dei nuovi positivi emiliano-romagnoli sono tuttavia senza sintomi, 5 i casi in regione di rientro dall'estero, 22 da altre regioni e non c'è per fortuna nessun decesso. L'età media dei nuovi positivi emiliano-romagnoli è più alta rispetto ai giorni scorsi e oggi è a quota 37 anni. I nuovi casi degli ultimi giorni sono stati registrati in maggioranza nelle province di Ravenna, pari a 21, Parma 20 in questo caso e Bologna 18. E parliamo adesso di due parchi che saranno chiusi a Ferrara Città dopo l'ultimo episodio di degrado urbano nel parchetto Totti di venerdì scorso. L'amministrazione comunale nella persona dell'assessore alla sicurezza Nicola Lodi ha deciso di provvedere alla chiusura del parco insieme a quello più piccolo nella poco distante via Monti-Perticari. Da tempo in entrambi i parchi i residenti segnalano bivacchi abusivi. Questo avrebbe spinto il Comune ad anticipare questa decisione prevista fra qualche mese, ha detto Lodi, ma a questo punto lo sentiamo. Parliamo della chiusura immediata, per cui parliamo di poche settimane, del parchetto Enrico Totti. Verrà chiuso totalmente, questa mattina ho già chiamato i dirigenti del Comune, i fondi sono già disponibili, per cui chiuderemo il parchetto Enrico Totti e chiuderemo anche il parchetto di via Monti-Perticari, successivamente a quello di Enrico Totti. Verrà chiuso alla sera e alla mattina, verrà sicuramente riaperto dalle forze dell'ordine, verrà chiuso per dare la possibilità a chi vive di dormire serenamente, di non assistere a bivacco e di non dover sentire urle e schiamazzi tutta notte. Si era deciso di chiudere il parchetto Enrico Totti nei prossimi mesi, invece ho deciso proprio questa mattina di dare il via in contemporanea ai lavori del Grattacielo che inizieranno a settembre. La novità è che da domani, scusate da lunedì, la Polizia presiederà, la Polizia di Stato, questo parco e ci sarà una pattuglia che continuerà a controllare sia Enrico Totti sia Monti-Perticari. Preciso che in Enrico Totti rimarrà l'area di sgambamento cani all'interno e che verrà chiusa intorno, come voi vedete dietro di me, la recinzione dell'area sgambamento cani. Questa è la recinzione che faremo uguale a quella esterna. Adesso parliamo di un grave lutto che ha colpito in molti perché si è spento all'età di 58 anni l'artista, fotografo e regista Andrea Samaritani, che da tempo lottava purtroppo con una grave malattia. Nato a Cento nel 1962 e artista dall'85, Samaritani si è espresso in diverse discipline, fotografia, giornalismo, grafica, pittura, regia video e location manager. Collaborava con le principali riviste dell'editoria italiana ed europea, tra cui Bell'Italia, dove i Viaggi del Sole 24 Ore, ma anche Io Donna, il Venerdì, Sette, Repubblica, Stampa, Espresso, Panorama e Quitouring. E a Ferrara ricordiamo che ha collaborato anche con i quotidiani della città, quindi sia con il Carlino che con la nuova Ferrara. Profondo il cordoglio da parte del mondo dell'arte, della stampa, ma anche della politica, con numerosi ricordi alla sua figura condivisi nelle ultime ore. E il ricordo di Samaritani e anche Telestense vuole essere partecipe, vi riproponiamo un'intervista realizzata nel 2014 in vista di una mostra fotografica patrocinata da Expo. Vediamo. Da Milano mi hanno contattato per proporre diverse immagini della regione Emilia-Romagna, io ne ho offerte migliaia da vedere e da visionare, tra le quali hanno scelto dieci fotografie che rappresentassero da Piacenza a Rimini un po' l'idea del territorio, nelle varie sfaccettature. Mi è stato riferito senz'altro che sono rimasti affascinati dai disegni architettonici del nostro Duomo di Ferrara, proprio perché c'è un'immagine che tra quelle scelte dove si vedono sotto i figuranti del paglio, però dove predominante è proprio la parte superiore del Duomo che è affascinante e unica nel suo genere. Così come le altre due, una che raffigurano delle imbarcazioni tradizionali dell'Adriatico durante la rievocazione storica dello sbarco di Garibaldi nel Comacchese, che hanno questa immagine evocativa delle vele colorate, uniche e particolari rispetto alle vele che di solito sono bianche e anonime. E la terza è una particolarità di un collezionista che oggi è pensionato, che è nato sui trattori, a sette anni era già lì che arava e oggi da pensionato sta collezionando tantissimi modelli di trattori Lamborghini, che è un marchio del nostro territorio conosciuto in tutto il mondo. Mi piacerebbe che la gente vedesse un po' l'emozione e la curiosità che mi muove sempre, fin da allora e anche adesso, nel guardare le cose, semplicemente questo. Poi ci può essere anche conoscenza, ci può essere anche giudizio o valutazione, però per me la prima cosa importante che mi piacerebbe trasmettere, se riesco a farlo, ma non posso essere io a dirlo, è la curiosità e l'emozione di vedere immagini. Io sono un fotografo curioso, interdisciplinare, che lavoro su vari piani e che da 30 anni, facendo perno tra Cento, Bologna e Ferrara, mi muovo in tutta la nazione, ma in particolar modo in Emilia-Romagna, cercando di fissare e documentare gli aspetti legati all'etono-antropologia, rispetto al paesaggio, al territorio, alle architetture, ai musei e tutto quello che fa bello la nostra regione e quindi in questi anni ho accumulato 250.000 fotografie che sono online, che fanno parte del mio tesoro, della mia ricerca in tutti questi anni. Intanto si è chiusa sulle note della Alan Fabry Folk Band, formazione musicale del sindaco di Ferrara, la 33esima edizione del Ferrara Baskers Festival, andata in scena in versione limited, con spettacoli trasferiti dalle piazze e palazzi storici e contingentamenti post-emergenza Covid. Il primo cittadino dedicato all'amico, appunto scomparso ieri, Andrea Samaritani, artista, fotografo e regista, il concerto, in special modo la cover di Andrea, di Fabrizio De Andrè. Ci lascia un amico, un grande professionista e una persona di grande cultura, ha detto Fabry richiamando gli applausi del pubblico. Con la nostra musica abbiamo voluto salutare il pubblico dei Baskers, ha poi detto il sindaco, ringraziando l'organizzazione. In un anno difficile ci sono stati la voglia e l'entusiasmo per confermare il festival, sono cambiate le modalità ma esserci è stato importante. Appuntamento dunque al prossimo anno, ma intanto il primo bilancio dell'edizione 2020 ha registrato numeri importanti nonostante le limitazioni dovute alle misure anti-Covid. 60 eventi, 5 location a Ferrara, 5.000 persone e tanto interesse anche dall'estero. Ringrazio l'amministrazione e tutta la nostra magnifica macchina organizzativa, ha detto la Presidente del Ferrara Baskers Festival, Rebecca Bottoni, è stato un grande impegno ma ne è valsa la pena. Abbiamo voluto regalare un po' di sollievo dopo un periodo buio. Pubblico e artisti hanno anche resistito a un momento di pioggia reagendo in maniera emozionante. Da parte di tutti abbiamo visto e apprezzato una grande collaborazione dal punto di vista lavorativo e umano, quello che speravamo sia realizzato. Il prossimo anno ci auguriamo un'edizione senza limiti mettendo a frutto le tante suggestioni imparate quest'anno. Ed è intervenuto anche lo storico fondatore Stefano Bottoni parlando di una edizione surreale. Abbiamo riscritto l'approccio con i territori e gli spazi rivedendo le differenze tra contenitori e contenuti. La chiusura e i limiti hanno avuto l'effetto paradossale di liberare le energie. La musica e l'arte sono stati capaci anche di questo. E questo dunque un tracciato di questa edizione del Ferrara Baskers Festival. Intanto però si registrano effetti positivi per i Baskers non solo per le attività commerciali ma anche per le mostre perché c'è stato grande beneficio per la mostra di Banksy. Nell'ultimo weekend infatti sono stati 1428 i visitatori dell'esposizione allestita a Palazzo Diamanti. Esattamente si tratta di 775 visitatori nella giornata di sabato e di 653 ieri appunto in quella di domenica. E torniamo a parlare adesso del tentativo di esternalizzare i servizi degli asili Gobetti e Mongolfiera di Ferrara perché ci sono ovviamente ancora strascichi politici. Vediamo i dettagli. Il gruppo consigliare del Partito Democratico di Ferrara chiede alla Giunta gli atti che avrebbero poi portato alla esternalizzazione degli asili Gobetti e Mongolfiera. Continua così la bagara politica sfociata mercoledì pomeriggio con la protesta dei sindacati in centro a Ferrara dopo che nel primo pomeriggio dello stesso giorno l'amministrazione comunicò la volontà di esternalizzare a privati i servizi delle due scuole pubbliche. A poche ore di distanza prima il sindaco Adan Fabri e poi l'assessore all'istruzione Dorota Cusiak hanno fatto dietro fronte sulla decisione alla luce delle proteste emerse. Serve condivisione sul mondo della scuola hanno detto dall'amministrazione che ha procrastinato la scelta di esternalizzare. Ma la risposta politica dell'opposizione non si è fatta attendere. Il PD ha inoltrato un'interpellanza con cui chiede ufficialmente al primo cittadino attraverso risposta scritta quali siano stati gli atti amministrativi che avrebbero permesso di esternalizzare il servizio. Anche Coalizione Civica Ferrara è intervenuta sull'accaduto secondo cui sarebbe stato compromesso il rapporto fiduciario tra amministrazione comunale e mondo scuola. I civici che alle scorse elezioni hanno corso per il centro-sinistra si oppongono alle esternalizzazioni, in questo caso prive di ragioni di bilancio, sostengono e nel frattempo chiedono maggiore coinvolgimento quanto si prendono decisioni così importanti. E adesso un altro lutto a Ferrara perché è scomparso all'età di 58 anni Riccardo Rota, personaggio legato al mondo dello spettacolo e della televisione, noto tra gli altri per il programma Caos TV. Rota è stato rinvenuto privo di vita sabato mattina dal 118 e dalla Polizia di Stato e l'uomo era deceduto soltanto poche ore prima per cause naturali. Molti amici e colleghi lo hanno ricordato nelle ultime ore con diversi post sui social network. Parliamo adesso di ambiente territorio, in particolare del Cuneo Salino in risalita di ben 30 chilometri negli ultimi 20 anni. Questo secondo il Consorzio di Bonifica Pianure di Ferrara ha lavoro per contrastare il fenomeno. Ma quali sono le conseguenze? Le sentiamo nel servizio. Sono praticamente dimezzate rispetto alla media. Le portate del fiume Po che mercoledì faceva rilevare 689 metri cubi al secondo a Ponte Ragoscuro. Restano comunque migliori dello scorso anno, ma oltre a un problema di siccità, di effetti del cambio climatico con piogge forti a macchia di leopardo, ci sarebbe un altro importante effetto da non sottovalutare, ovvero il Cuneo Salino. Negli ultimi 20 anni l'acqua salata del mare è riuscita a risalire di quasi 30 chilometri nelle foci del Tizie, in particolare nei rami secondari, che per quanto riguarda il ferrarese sono il Po di Goro e il Po di Volano. A porre l'attenzione su questo argomento delicato è Franco Dalle Vacche, presidente del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. Entrando nell'entroterra l'acqua salata metterebbe a rischio migliaia di ettari e le aziende agricole che operano sul territorio estense verso la costa. Il rischio è che l'acqua utilizzata per l'agricoltura diventi inservibile. Il Consorzio contrasta questo fenomeno immettendo acqua dolce prelevata dagli impianti e canali. Senza quest'azione costante, sostiene dalle vacche, zone come il Bosco della Mesola o le Pinete verso i Lidi sarebbero scomparse, ma anche gli importantissimi vivai della zona non potrebbero conservarsi. Il Consorzio è partner attivo del progetto internazionale per la gestione sostenibile delle acque sotterranee, obiettivo monitorare il fenomeno nella zona del Comachiese, ma per Dalle Vacche servirebbero anche azioni politiche per la salvaguardia della coltura del riso che con le sue pratiche è una barriera naturale contro la salinizazione dei terreni. Ma nel giro di pochissimi anni per Dalle Vacche da 11 mila ettari coltivati siamo oggi a soli 5 mila ettari, avverte il Presidente. Abbiamo parlato di ambiente e anche di Baskers Festival, a questo punto una notizia che le unisce perché durante i Baskers si è tenuta un'iniziativa a scopo ambientale. Il neonato gruppo di volontari Plastic Free Ferrara pinze alla mano in poche ore ha ripulito il centro città che si apprestava ad ospitare artisti e visitatori. Sono stati raccolti centinaia di mozziconi di sigaretta, ma sentiamo a questo punto il resoconto dell'impegno di quante persone direttamente dal referente provinciale e regionale di Plastic Free hanno operato in questa circostanza. Normalmente come associazione Plastic Free noi ci dedichiamo alle raccolte delle plastiche, non solo delle plastiche, non abbiamo mai fatto raccolte solo di mozziconi, anche se i mozziconi oltre ad essere tossici hanno anche il filtro che è comunque di materiale plastico e non si biodegrada mai, si decompone ma non si biodegrada mai. Però ci hanno chiesto per questo evento, per questa manifestazione di fare questa raccolta simbolica, che poi intanto simbolica non è perché ne abbiamo raccolto il suo giusto. Abbiamo molto volentieri aderito, ci sarà adesso un qualcos'altro in piazza e verranno usati questi mozziconi e poi niente, serve proprio a sensibilizzare verso queste brutte abitudini. Però noi principalmente raccogliamo plastica e sensibilizziamo contro l'abuso dell'uso della plastica monouso. Una bella iniziativa dunque, ma a questo punto ci spostiamo proprio sull'arte per parlare di una bella iniziativa, attraversare l'immagine, donne e fotografie tra gli anni 50 e gli anni 80. E' questo il titolo della diciottesima edizione della Biennale Donne a cura di Angela Madesani che si terrà a Ferrara, alla palazzina di Marfisa d'Este, dal 20 settembre al 22 novembre. Il progetto si inserisce nella riflessione che dall'84 l'UDI, Unione Donne in Italia, dedica alla creatività femminile in tutte le sue forme e linguaggi. Attraversare l'immagine indagherà il mondo della fotografia femminile mettendo in luce i filoni di ricerca più originali. Vediamo il servizio. 13 fotografi italiani e internazionali saranno in mostra alla palazzina di Marfisa d'Este dal 20 settembre al 22 novembre di quest'anno. Per la diciottesima Biennale Donne, dedicata quest'anno a Donne e fotografie tra gli anni 50 e gli anni 80, una lettura per immagini della storia della cronaca in anni cruciali del nostro paese e del mondo. La mostra è organizzata dal Comitato Biennale Donne a dell'UDI, come sempre, e dalle gallerie d'arte moderne e contemporanee con il sostegno della Regione Emilia Romagna. In occasione dell'esposizione verrà pubblicato anche un catalogo bilingue italiano-inglese con i testi della curatrice Angela Madesani e di Francesca Pasini. L'esposizione, che attraversa 30 anni di fotografie di società, rievoca eventi e costumi della storia italiana e del mondo dagli anni 50 agli anni 80 e del 900, dalla mostrosità del quotidiano della statunitense, finita suicida, di Anne Herbas, ai retratti della Milano negli anni del boom industriale e degli spettacoli più originale, di Carla Cerati fino a Letizia Battaglia, coraggiosa e stancabile fotoreport della Palermo degli omicidi di mafia, ma anche del mondo delle donne. Non mancano, nella rassegna, fotoreportare di guerra, con i due reportage ambientati in Libano e in Cambogia, della francese François de Muldé, la prima donna a vincere nel 1977 il World Press Photo, il più prestigioso premio fotografico del mondo, mentre della finlandese Lena Saraste sono presentate le immagini dedicate alle rovine umane architettoniche del conflitto israelo-palestinese dell'inizio degli anni 80. Vedremo anche l'intenso reportage sulla partage realizzato sempre negli anni 80 in Sudafrica da Paolo Agosti, per non dimenticare i fotoreportage che raccontano le battaglie in Italia per i diritti civili, l'emancipazione delle donne, la chiusura dei manicomi, ovvero sia un'epoca di grandi contraddizioni e di entusiasmi collettivi, seguiti dall'epoca del cosiddetto reflusso, gli anni 80 del divertimento e della trasgressione. E adesso invece concludiamo il nostro TV giornale tornando a parlare ancora di eventi, perché la pandemia da coronavirus non ha fermato, ma solo ha cambiato un po' la faccia delle iniziative a Ferrara. L'estate in città del 2020 sarà ricordata a lungo, ma se si pensa alle previsioni della primavera scorsa, quanto fatto in questi mesi per tenere il centro città vivo ha sicuramente portato beneficio a Ferrara, che nell'ultimo giorno del Basket Festival fa già un primo bilancio di questa estate anomala. Sentiamo allora l'assessore alla cultura, Marco Culinelli. Non voglio fare facile ironia, ma giustamente, come dicevamo, poc'anzi poteva andare peggio. Ci siamo impegnati per riuscire a arrivare, insomma, a dare alla città quello che era necessario. Un tentativo di andare a sensibilizzare dopo un periodo di chiusura totale, attraverso la cultura, attraverso la bellezza, attraverso comunque lo stare insieme. Questo è quello che ha contraddistinto la forza e l'inerzia del nostro provarci. Ovvio, durante quel periodo era tutto chiuso, quindi non potevamo sapere, quindi era un po' una scommessa. Quello che sapevamo di certo è che bisognava dare sicurezza e nello stesso tempo anche una sorta di confidenza alla città in modo da potersi proprio riappropriare degli spazi che ci sono comuni. I Baskers Festival, 33esima edizione, ne è un esempio. La parola d'ordine che dico sempre, parafrasando, visto che siamo in ambito musicale per la presentazione dell'apertura della 33esima edizione dei Baskers, c'è un cantautore, un cantante americano che si chiama Springsteen, che ha scritto un pezzo bellissimo, che si chiama Non sorrendere. Questa è una parola che in fondo tradotta non arrendersi, è suonata nelle nostre orecchie tantissimo in questo ultimo periodo. Come in realtà ho detto diverse volte, ribadisco, questa edizione dei Baskers si chiama Limited Edition, un po' come i vecchi album, fino ai CD di autori importanti, usciva l'edizione limitata e i fan si buttavano a comprarla, questo per dire che è comunque un'occasione di opportunità per i Baskers. E con questa notizia siamo in chiusura, come sempre vi ricordo il nostro sito telestensio.it e i nostri canali social, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Prossima edizione alle 19.30, quindi grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Prossima edizione alle 19.30, quindi grazie per averci seguito il nostro sito.